guarda guarda che muore per la sim no mi sono stoccato nooo dai il c4 ad otto dai il c4 ad otto eh non va lancia il tuo c4 ad otto dai oh porco dio ma si può ma si può morire così eh vabbè va perfetto questa qua la vincevamo lo so non mi fa niente rianimare assurdo va 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 non mi fa rianimare che fa ma guarda io non ho parole guarda va 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 va